Siamo con Fabrizio Toselli di Bondeno dell'azienda Sapori della Rangona. Siamo qui al Ferrara Food Festival con questi prodotti che vediamo qua davanti e ci facciamo spiegare un po' questi prodotti come vengono fatti. L'idea è nata sulla valorizzazione, legata alla valorizzazione della zucca che è un prodotto ferrarese. Nel nostro laboratorio abbiamo pensato di creare questo snack alla zucca che sostituisce sostanzialmente le patatine. Oggi abbiamo dei sacchetti di patatine e il nostro progetto è quello di creare invece dei sacchetti in cui si mangia la zucca. Ci sono anche dei bicchieri da passeggio? C'è il bicchieri da passeggio, invece il sacchetto con due mesi di scadenza, quindi abbiamo una curata del prodotto e il nostro progetto è quello di lanciare questo snack in tutta Italia, quindi sostituire le patatine tradizionali. Come viene preparato? Disidratato? C'è una preparazione lunga perché c'è stato più di un anno di lavoro nel laboratorio, è un prodotto che è un processo che viene fritto. La ricetta è sempre segreta? Diciamo che c'è più di un passaggio, però siamo partiti dalla tradizione di una ruota. Una ruota c'era la nonna che fringeva e alla sera appena fritta la mangiava. Noi abbiamo voluto creare un prodotto che fatto oggi possa essere ancora buono e con la stessa croccantezza anche due mesi dopo. Questo è stato poi il progetto e è anche una novità perché facciamo appunto durante questo evento e con le novità anche del panorama ferrarese. Perfetto perché anche una delle 18 perle dei prodotti tipici del ferrarese viene utilizzato con le trasformazioni in altri modi. È una cosa molto bella, quindi complimenti. Diciamo che è un prodotto esatto, è una delle 18 perle ed è anche un prodotto facilmente esportabile anche in altre regioni, ci crediamo molto. Perfetto. Lo vogliamo portare in giro a ferrare. È il primo anno che venite qua? Abbiamo già dei punti un po' in giro per l'Italia, quindi di punti vendita nostri, di punti vendita che hanno apprezzato il prodotto, però diciamo che è il lancio, oggi è il lancio proprio ufficiale del prodotto. Grazie mille. Grazie a voi.